Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Ahhhh Un gioco che non portiamo da tanto tempo E' vero che non lo portiamo da tanto tempo, possiamo acquistare Tania volendo Allora, perché non lo portiamo? Non vuoi acquintare, acquistare Goro? No, io prenderò Hermak Perché non lo prendiamo da tanto tempo sul gioco? Perché molti si sono stufati del nostro modo di giocare molto tecnico, combo based, comunque sia troppo professionale Volevate una partita un po' più rilassata, con meno cognizione di causa E quindi abbiamo deciso di dimenticare un po' a livello muscolare Ma anche a livello mnemonico proprio Le diverse combinazioni che ormai erano parte del nostro DNA Se così si può dire E per regalarvi un'esperienza di gioco un po' più genuina In realtà stiamo rompendo le concentrali Aspetta che questa è la prima volta che lo faccio Concentrali, devi concentrare la forza Ma che è sta cosa? Non lo so, io volevo fa... Eh, hai fatto prima tu Ma che è? Bisogna premere più forte Ragazzi non sappiamo cosa stiamo facendo Tronco di ti Però voglio arrivare fino a sopra Ah, questa stronzata, giusto Voglio spezzare tutto No, no, questa è difficile Bastardo Il tronco di Dick è molto forte Falta cazzo, salta Premi a... Ma mi piace l'animazione Eh, questo qua Poi i caricamenti, è tutto figo Fila di mattoni E dai 500 E dai Guarda quanta esperienza sto facendo Salto Ah Oh, il... Il peschio sacro del Cristorella Che mi hanno rotto la mano Perché? Sconfitta Ma perché? Non lo so Il teschio di Dio Perché ti ha tagliato un teschio la mano? Non ne ho la più pallida idea Però, vabbè Minchia, questo è difficile Ah, aspetta Posso fare il rullo a due Poi ti taglio Allora È spettacolo però Ma è bella sta cosa Dobbiamo arrivare fino a sopra Non so che fino a... No, si può fare il rullo a due Non lo sapevo Pazzo, orsi è il drago di pomodo Vabbè Fa culo No Si è rotto la mano Ma è un messo No, perché il problema è premere con l'altro dito Vabbè Posso fare una partita normale Dove ci picchiamo Però volevo arrivare fino a su Ma che palle Che ha vinto Ma è orribile Vabbè Comunque Ha vinto nessuno PvP Non c'è scritto almeno quanta roba ti dà Sub-Zero Signore degli anime Spettramistico Allora Ragazzi La fluidità dello scontro Sarà sempre molto Io non mi ricordo un cazzo Eh? Non mi ricordo un cazzo Quindi se vi piacerà un sacco questo Mettete un sacco di Mi piace E... Roba simile Facciamo Mi piace Iscrivetevi Ragazzi Mortal Kombat Chi è che vi porta Mortal Kombat A due anni e mezzo dall'uscita Però È un videogioco che piace un sacco Sì questo piace Oh Questa io non mi ricordo niente Mi dai un attimo Minchia non mi ricordo veramente un cazzo Ero il tuo cazzo Scusami Menami Brava Sì ma Esagerato però eh Vai Tre due uno Via Vaffanculo E' solita Sto cosa Il cadavere Aspetta Aspetta Come si faceva fare Non mi ricordo Non mi ricordo niente Aspetta aspetta E' facile E' tutto easy Quello che mi ricordo E' il pugno sotto Altati Tipo così E poi Bella Ah ok Ti ricordi questo No Con di R1 R1 Y Eh Mo mi devi fa male Por Pidguè Che cazzo Ti ho tirato un cadavere Porca mia Però sto cosa è OP Che cos'è quel cadavere Perché non me Madonna che Che battaglia di merda Com'era la cosa così Oh ma con di R2 Oh tu che hai Com'è che si parava indietro Si penso di si Vedete Noi ci ricordiamo Sempre pagamente Fiscio Lo stavo aspettando Per quello Agivo Che mosse tattiche Che stiamo facendo Eh il cadavere Eh lo stavo per prendo Tutto cazzo Eh dai Io sto cercando di rimparare le mosse Ma Fanculo È un po' fastidio Io sto cercando veramente di rimparare le mosse ma Aspetta 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 Mamma mia La mia specialità Allora vediamo un po' Mosse principali Lenco mosse Attacchi Fatalidi Con Fatalidi Mosse finali Sotto Sopra sinistra Facile Sotto Sopra sinistra Sotto Sopra sinistra Più vicino forse Mi vede la distanza però Ho deciso di farti morire così Un miliato Perché non l'avete fatto andare Benvenuti su Questi su server che Non sanno giocare a Mortal Kombat Perlomeno non si ricordano niente Prima eravamo quasi arrivati a Un buon livello E adesso non si sa Beh beh sicuramente conosciamo un po' di mosse Tua sorella la conosce Porca Come hai fatto a prendere il volo? Io Giuro che Non riesco a Sto cercando di fare mosse Bella Ok L'atterramento si fa così Carina Finalmente sto capendo mosse Intanto che mi prende a scurcioni E dai Vaffanculo E' la fiera del niente Io mi rendo conto che Non guardate lo stu gameplay Faffanculo Guardate come sfrutta lo sfondo Per E' l'unica cosa che posso fare E' giocare di intelligenza Visto che di pratica non c'è Ah posso fare questa cosa qua Capito Se tu la finisci Ti fai il calcio volante Del Gesù Cristo Porco diaz Che è un noto giocatore di calcio Ma non che è Cameron Bella E' ormai una capocciata Di quelle tremende Io una volta sapevo Un paio di mosse Poi è finito Ah ma ci si parla con L2 No R2 scusami Come si si separa? L2 Così con questo Aspetta mo ti faccio una mossa bella Ahahahah E' elenco mosse Sì Mosse finali Ecco Mi muovo Tanto lo so che Ma come cazzo si Medio Sistemi interni Sotto Sopra E destra Medio Ma questo è giusto Bravo Bravo S'ho fatta Eh di una violenza fuori da normale questa mossa Poi dici che entriamo nella modella coloristruzione Vabbè qui è normale Ci sarebbe anche Comunque Questo gameplay si chiamerà Il ritorno su Mortal Kombat 10 La L E noi ci vediamo al prossimo gameplay ragazzi Sempre con questa stessa Capacità No magari miglioriamo Non forse